certo te lo faccio subito iniziamo a far rosolare il guanciale in padella una volta pronto lo prendiamo e lo mettiamo da parte e conserviamo la pentola con il grasso perfetto, ora andiamo a fare la nostra carbocrema tuorli, pecorino romano è la cosa fondamentale che non può mancare la apriamo eeeh pesce d'aprile ragazzi continuiamo a fare la nostra carbocrema aggiungiamo pepe nero il grasso del guanciale setacciato e la nostra fantastica carbocrema è pronta acqua di cottura nella padella col grasso del guanciale e facciamo finire la cottura in padella saltiamo la pasta aggiungiamo la nostra carbocrema saltiamo ed ecco a voi la mia fantastica carbonara ciao 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 ciao